wiko rainbow che sta girando questo questo video proviamo il pan veloce e ci vorrebbe proprio un bel un bel arcobaleno oggi guardate che cielo che cielo grigio quindi sarà un contro luce non un contro sole quello che riuscirò a girare oggi piove sto prendendo tanta acqua proviamo con questa ripresa ravvicinata messa a fuoco ci spostiamo verso un panorama più lontano proviamo a fare lo zoom zoom che arriva ai fattivici 4x torniamo indietro e ora mi fermo un attimo sulla via quasi deserta vista la pioggia